Musica Buon pomeriggio, bentrovati ad ora TG, è davvero una storia terribile quella che giunge da Catania. Una giovane mamma è stata arrestata con l'accusa di aver ucciso il bimbo di tre mesi, scaraventandolo al suolo. Il neonato è giunto in ospedale ma non c'è stato nulla da fare, sarebbe morto poco dopo. La donna è adesso rinchiusa nel carcere di Piazza Lanza con l'accusa di omicidio aggravato. Il primo dei nostri servizi, Mario Grasso. L'ipotesi accusatoria è grave, aver ucciso il proprio figlio Letto di appena tre mesi, scaraventandolo in terra nell'abitazione dell'anziana nonna dove viveva assieme al Pargoletto. Per questo motivo, su delega della procura distrettuale di Catania, la Polizia di Stato del commissariato di Borgognina ha applicato la misura in carcere nei confronti di una mamma 26enne catanese che davanti ai magistrati si è difesa, dicendo di non aver voluto affatto uccidere il figlio Letto. La tragedia si è consumata il 14 novembre scorso in un'abitazione a piano terra di via Regina Bianca nel quartiere di Picanello. Secondo l'accusa, la donna avrebbe dapprima scosso con violenza il bambino per poi lanciarlo al suolo e sbattendolo più volte avrebbe cagionato il decesso del figlio che porta lo stesso cognome della mamma, che non è sposata e che vive assieme alla nonna di 85 anni. Avevo la mente oscurata e non so spiegare cosa è successo, ma sicuramente non volevo uccidere mio figlio e non ho mai pensato di ucciderlo perché io lo amavo, ha detto ai magistrati, secondo quanto ricostruito dal suo legale l'avvocato Luigi Zinno. Interrogata, la donna ha detto di essersi sentita male e che la sua intenzione era quello di gettarlo sul letto e non certo per terra. Insomma, una fatalità. La mamma del bimbo avrebbe chiamato immediatamente. I soccorsi nella stanza sono subito arrivati, la nonna e il papà. E allora ha detto che il piccolo gli era scivolato dalle mani ed era finito in terra. Il neonato è stato portato immediatamente nel pronto soccorso del Cannizzaro, dove è stato intubato e poi trasferito nella rianimazione della neonatologia del Garibald inesima, dove purtroppo è deceduto il giorno dopo il ricovero. Dunque, lo scorso 15 novembre, sebbene la notizia si sia presa solo oggi, a seguito dell'arresto della donna verso la quale la procura ipotizza l'omicidio aggravato dall'aver agito contro il discendente. Infatti, secondo gli inquirenti, la dinamica della tragedia sarebbe andata diversamente. Il bambino non sarebbe scivolato accidentalmente o scaraventato dalla mamma sul letto, bensì volontariamente a terra, tesi suffragata dall'audizione da parte della procura e della polizia di tutti i soggetti intervenuti nell'immediatezza dei fatti e della stessa 26enne sentita la presenza del difensore di fiducia. Le indagini del commissariato di polizia Borgognina sono state coordinate dal procuratore Carmelo Zucchero e dall'aggiunto Ignazio Fonzo, che coordina il Dipartimento Reati contro le persone e dal sostituto Fabio Saponara. Quel giorno stava male, ha detto l'avvocato, e aveva chiamato il papà che era al lavoro per dirgli se poteva tornare a casa. La signora, racconta il legale, aveva avuto un'infanzia dolorosa per la morte della madre che ha perso quando aveva 11 anni, quando è rimasta incinta ed è andata a vivere con la nonna. Secondo il legale, la donna ha sofferto una grave forma di depressione postpartum che ha aggravato la condizione di persona fragile psicologicamente. Per questo il papà le avrebbe fissato degli incontri con specialisti, ma lei non sarebbe andata. Nel provvedimento odierno il GIP ritiene, integrata da una continuità di azione dell'indagata, la quale, attesa anche la tenerissima età del figlio, ha agito di certo al fine di ucciderlo, dolo intenzionale. Comunque si è rappresentato l'evento omicidiario come realizzabile con elevato grado di probabilità o anche con certezza come conseguenza diretta e immediata della propria azione, dolo diretto. Insomma, la donna, secondo la magistratura, voleva uccidere il figlio. Pertanto, per il giudice, non può in nessun modo ritenersi corrispondente al vero neppure quanto dalla stessa riferito, in ordine all'assenza di volontà omicida ai danni del neonato. E dunque avete sentito la ricostruzione dei fatti della cronaca. La donna ha detto, in fase di interrogatorio, di non aver agito intenzionalmente, ha detto lo amavo, non volevo fare tutto ciò, compiere questo gesto. Una versione che viene confermata dal padre della donna, 26enne. Come avete sentito, è accaduta la vicenda nel rione Picanello, dove per noi è andato sempre Mario Grasso. Sentiamo le dichiarazioni del padre. È successa questa tragedia, questa disgrazia? Il quartiere qui è convinto che si sia trattato di una tragedia a punto e di non l'altro. Sì, è un incidente non voluto, diciamo, da mia figlia. È stata una disgrazia che gli è caduta dalle mani, niente, meno quello che posso dire io, niente altro. Voi come famiglia avete assolutamente fiducia nella giustizia? Sì, questo sì, abbiamo una giustizia che deve fare il suo corso. La giustizia deve fare il suo corso e quindi speriamo che mia figlia, diciamo, non abbia proprio un problema. Sua figlia non ha mai avuto nessun tipo di… No, no, completamente, completamente. Perché me ne sarei accorto completamente. Tra l'altro proprio qua nel quartiere tutti vi descrivono come una famiglia assolutamente… Sì, perché difatti noi siamo una famiglia umile, non siamo una famiglia, diciamo, ci conoscono tutti, ci conoscono tutti quanti. Aspettiamo dunque che si possa chiarire la situazione. Appunto. Si possa, diciamo, chiarire questa situazione una volta per tutte. E lasciamo per il momento questa vicenda. C'è stato un grave incidente questa mattina nella zona industriale di Piano Tavola, incontrata Pirritino Pantano, due le macchine coinvolte, siamo in territorio di Belpasso, una Fiat Stilo a bordo, c'era una coppia di Belpasso e un Audi Coupé guidata da un giovane catanese. Una delle due auto non avrebbe rispettato il diritto di precedenza, rendendo inevitabile lo scontro e dunque c'è stato un forte impatto. Le auto sono state parecchio danneggiate. Tra le persone finite in ospedale, da avere la peggio, una donna che è stata trasferita all'ospedale Cannizzaro in elisoccorso, mentre il marito è stato trasportato nello stesso ospedale tramite l'ambulanza del 118. Per il giovane conducente dell'Audi, gli operatori sanitari hanno disposto il trasporto invece all'ospedale Garibaldi Centro. Sul posto anche i vigili del fuoco di Paternò per mettere in sicurezza le auto. Momenti di intenso lavoro ovviamente per le forze dell'ordine e per il 118. E c'è stata una rissa in campo ad Aci Bonaccorsi. Si giocava la partita di prima categoria tra Polisportiva Bonaccorsi e Nisiana Catania. Sei i feriti. Impressionante la rissa. Vediamola. Scena di violenza nel corso di una partita di calcio minore. È successo ieri ad Aci Bonaccorsi in occasione della gara tra la Polisportiva Aci Bonaccorsi e la Nisiana Catania, valida per il campionato di prima categoria. I padroni di casa vincevano agevolmente 2-0. Ma all'improvviso il match è sfociato in una violenta rissa tra calciatori e sostenitori presenti in tribuna, abili a scavalcare la recensione ed entrare sul terreno di gioco. Ben sei giocatori della formazione di casa sono rimasti feriti e medicati dalla Croce Rossa che era presente sul posto con un'ambulanza. La peggio l'ha riportato uno di loro, trasportato poi all'ospedale di Aci Reale per ulteriori accertamenti. I miei ragazzi hanno subito danni fisici, botte in testa e pedate, ha affermato successivamente il presidente della formazione di Aci Bonaccorsi, Carlo Nastasi. Realizzati dei filmati e delle foto che testimoniano quanto è accaduto, come riporta New Sicilia. I nomi degli atleti coinvolti sono Davide Messina, Giulio Sciacca, Pietro Grasso, Dario Castello, Giuseppe Infantino e Vincenzo Donzuso, oltre ad un dirigente, Massimiliano Fiorentino. La tribuna dello stadio di Aci Bonaccorsi è attualmente chiusa e non è consentito quindi al pubblico di accedervi. Ma i feci norosi entrati in campo hanno scavalcato la recensione. La partita è stata quindi sospesa e non è ancora dato sapere se verrà rigiocata o meno. Un episodio ingrescioso sul quale bisognerà ancora fare piena luce. Secondo Anastasi infatti si è trattato di un pestaggio vero e proprio sulle cui cause scatenanti si sta ancora indagando. Resta il fatto comunque della precarietà di un impianto adibito alle partite di calcio, ma probabilmente non in possesso di tutti i necessari accorgimenti. E voltiamo pagina, sono state scoperte dal corpo forestale due vere e proprie bombe ecologiche tra Giarre e Cala Tabbiano presenti rifiuti pericolosi ed altamente inquinanti. Sentiamo Gwenda Garozzo. Lastroni di Eternit, materiale edilizio, scarti provenienti da apparecchiature elettriche e di elettrodomestici e poi rifiuti urbani, ingombranti, ferraglie, pneumatici e imballaggi vari giacevano indisturbati in queste aree, siamo nella parte alta della frazione di Macchia, al confine con Sciara e a ridosso del torrente minissale, nella parte a valle del corso d'acqua che sfocia nello Ionio, in territorio di Cala Tabbiano. Qui tra gli agrumeti e gli orticelli privati, gli agenti del comando del corpo forestale di Giarre hanno rinvenuto due bombe ecologiche, due mega discariche, per le quali adesso una dettagliata relazione si trova sul tavolo della Procura della Repubblica, del Tribunale di Catania. Un disastro ambientale, frutto di un malcostume che spinge incivili senza scrupoli a disfarsi di qualsiasi rifiuto, anche di quelli che per legge vanno smaltiti secondo dei criteri sanitari speciali, senza cura alcuna, depositandoli in aree non particolarmente ad alta densità abitativa, ma certamente nei pressi delle quali insistono colture ortofrutticole che poi finiscono sulle nostre tavole. E c'è di più. A Cala Tabbiano un ingente quantitativo di pneumatici dismessi aveva quasi completamente ostruito lo sbocco della torrente, il rischio in caso di abbondanti piogge e di esondazioni fuori controllo. Tutto materiale che se non fosse stato individuato e opportunamente rimosso, secondo quanto previsto dalle normative vigenti, avrebbe continuato ad inquinare terreni e falde acquifere, grazie a chi sceglie l'illegalità a costo zero, ma ad un alto tasso di gravità in termini di impatto ambientale. Indagini adesso sono in corso per risalire agli autori di questo scempio. E ancora per la cronaca, non si ferma all'alt dei carabinieri, in seguito lancia dall'auto una busta contenente della droga, è stato così arrestato il 23enne Simone Puglia, originario di Randazzo. Vediamo meglio i fatti, sono stati i carabinieri della pattuglia del nucleo radiomobile di Randazzo ad imporre l'alt al Fiat Punto condotta dal giovane randazzese che invece di fermarsi ha forzato l'andatura fuggendo via. Durante il concitato inseguimento il ragazzo si è dispatto di una busta di plastica lanciandola in strada dal finestrino dell'auto. È stata recuperata dai militari ed è stato scoperto che conteneva mezzo chilo di marijuana sottoposta a sequestro, la vedete in foto. Bloccato dopo le formalità di rito, il giovane è stato rinchiuso nel carcere di Piazza Lanza. E adesso ancora le vicende legate all'economia del Comune di Catania. Oggi il Consiglio Comunale sul bilancio consultivo 2017, una seduta convocata d'urgenza dal Presidente del Consiglio per l'importante approvazione del documento finanziario per poter sbloccare i trasferimenti statali. Vi sentiamo. Torna a riunirsi stasera il Consiglio Comunale di Catania, convocato d'urgenza dalla Presidente Giuseppe Castiglione per le ore 18.30. All'ordine del giorno della riunione consigliare odierna, è attenzionato un appunto su tutti, e cioè l'approvazione del rendiconto dell'esercizio finanziario 2017. L'urgenza è dettata anche dalla necessità di accelerare l'invio da parte dello Stato, dell'ultima tranche del Fondo di Solidarietà, che per Catania monta circa 29 milioni di euro, risorse che servirebbero innanzitutto a pagare gli stipendi di ottobre e novembre lavoratori del Comune, comprese partecipate e cooperative. I successivi 20 milioni di euro che dovrebbero arrivare dalle casse regionali dovrebbero servire invece a saldare i mesi di dicembre la tredicesima. approvando l'esercizio finanziario del 2017, gli uffici comunali trasmetteranno subito la delibera al Ministero al fine di ottenere lo stanziamento da recenti incontri da parte dell'amministrazione comunale con il sottosegretario all'interno Stefano Candiani e interlocuzioni con gli ambienti regionali. A Palazzo di Elefanti serpeggia un pacato ottimismo. Il sindaco pogliese ha fornito infatti rassicurazioni alla città per quanto riguarda i fondi regionali deliberati dall'Aggiunta regionale di governo. Il problema è solo di coincidenza di tempi e si lavora lacrimente per far coincidere le scadenze anche in virtù della prevista chiusura della cassa regionale in riferimento al rendiconto. Pogliese ha annunciato anche che una volta arrivati i fondi non appena saranno disponibili la loro ripartizione sarà resa pubblica alla città all'insegna della massima trasparenza. E adesso invece ci spostiamo a Mascali dove il sindaco Luigi Messina annuncia un'imminente convocazione in un incontro dei comuni dell'Alcantara per fare rete e dunque trovare una sinergia per il sistema di depurazione delle acque. Riguarda anche il turismo non serve avere piazze e monumenti dice il primo cittadino se poi non è possibile offrire ai turisti il nostro mare. Sentiamo. Continua la battaglia sul fronte della depurazione delle acque a Mascali dove il sindaco nelle prossime settimane riunirà i comuni dell'Alcantara per cercare di trovare soluzioni e studiare percorsi comuni insieme a commissari ed enti regionali al fine di creare sinergie e migliorare le condizioni del mare su cui si affacciano queste città da Montesino a Valle. Io sto continuando questa battaglia perché credo che l'elemento più importante per avere una visione del futuro di questo territorio sia avere il mare pulito e pertanto è da anni che attraverso attività di sollecito con la politica con quelli che sono gli organi preposti al controllo ho evidenziato più volte le difficoltà che ci sono in aree che vanno dalla zona nord dalla zona di Giardina alla zona di Letoianni l'Alcantara che ha diversi comuni che magari devono avere un monitoraggio più attento sicuramente ad eccezione di c'è un elemento positivo per esempio ci sono tre comuni che sull'Alcantara già hanno appaltato il depuratore che sono Gaggi, Graniti e Motta Camastra ma gli altri mi chiedo cosa stanno facendo perché la politica la prima cosa che si deve interessare è di avere i propri luoghi adattati a quelle che sono le esigenze del territorio oggi le esigenze del territorio sono duplice cioè quella di avere il mare pulito perché l'ambiente va rispettato ma anche un mare pulito che consenta un aumento e una crescita del turismo che è in decrescita per colpa soprattutto di un mare che è stato trascurato in questi anni noi come amministrazione abbiamo tenuto questa battaglia in questi anni ora stiamo per organizzarci per invitare tutti questi comuni a venire nel nostro comune a fare una riunione insieme agli assessori regionali speriamo che viene anche il Presidente della Regione per evidenziare sempre di più che la prima esigenza di un territorio non può essere per quanto importante una piazza, una palestra, una strada ma la prima esigenza sono i depuratori la situazione di Maschali attualmente qual è dal punto di vista della depurazione? noi abbiamo un depuratore parzialmente funzionante deve essere completato abbiamo una gravità che è quella di avere un commissariamento da tre anni e che ancora non riesce a sbloccare il meccanismo che doveva essere sbloccato da un commissario cioè da tre anni c'è un commissario è ancora in fase di gara per poter dare l'incarico a dei progettisti per fare il progetto sulla base delle somme che già erano state destinate per un progetto già pronto fatto dal consorzio in questo ultimo decennio l'unico progetto che sta andando avanti è quello che noi abbiamo finanziato come comuni che è costato intorno a 40.000 euro un anno e mezzo fa circa glielo abbiamo dato al commissario e si è convinto grazie alla prefettura grazie alla dottoressa Giuffre che ha seguito attivamente attraverso la prefettura ha sbloccato circa un milione di euro che servirà a realizzare questo terzo modulo modulo che dovrà completare quelle acque che vengono depurate ma che devono essere migliorate nella depurazione che renderanno la fruizione di quell'area anche migliore nonostante tutto che i risultati dell'ARPA sono stati sempre positivi ma quelli che creano grandi disagi sono i depuratori che sono a nord della nostra area tant'è che noi ci accoggiamo che ogni volta che arriva l'acqua non depurata arriva da quelle aree arrivano dei rifiuti solidi che galleggiano e che creano grado di difficoltà la nota positiva in tutto questo è che spesso magari si confonde quello che galleggia con un mare veramente inguinato fortunatamente il nostro mare non è inguinato io ho sostenuto e continuo a sostenere ai comuni che sono nella parte dell'Etna nella parte alta dell'Etna come lo siamo noi perché noi siamo l'unico comune che va dall'Etna fino al mare che raccorda il parco dell'Etna con la spiaggia ho sempre sostenuto che il nostro turismo e il loro turismo dipende dal mare E adesso ancora la cronaca su disposizione della Procura della Repubblica di Catania i finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Catania hanno eseguito un decreto di sequestro preventivo di 690 mila euro nei confronti di una ditta individuale di recupero di rottami metallici con sede ad Acireale il titolare è indagato per i reati di utilizzo di fatture false e dichiarazione infedele nello specifico è stato accertato al fine di evadere le imposte avrebbe realizzato fatture false di acquisto ricevute da 10 fornitori compiacenti così da documentare maggiori costi e ridurre quindi drasticamente ed in modo illecito gli utili finali della propria impresa tale artificio sarebbe stato reiterato negli anni di imposta dal 2013 al 2016 le indagini di polizia giudiziaria hanno tratto origine dagli esiti di una verifica fiscale eseguita dai finanzieri della tenenza 10 reale nei confronti della ditta individuale pertanto le fiamme gialle su disposizione della Procura etnea come detto hanno sottoposto a sequestro 4 conti correnti una polizza vita il libretto postale 3 auto per il valore complessivo di 690 mila euro voltiamo ancora a pagina la giornata internazionale della disabilità si celebra oggi con diverse iniziative e a Catania iniziative giornata celebrata al pala Catania con lo sport in comune sport per tutti come sapete lo sport è un'attività inclusiva per eccellenza sentiamo lo sport che unisce lo sport di tutti per tutti è questo il tema conduttore di sport in comune 2018 manifestazione organizzata in occasione della giornata internazionale delle persone con disabilità dal comitato italiano paralimpico di Catania con il patrocinio del comune di Catania in collaborazione con l'unità spinale unipolare dell'ospedale Cannizzaro l'unione italiana ciechi la federazione italiana disabilità intellettiva e relazionale per tutta la mattinata il pala Catania di corso indipendenza si è trasformato in un grosso incubatore di eventi sportivi con protagonisti tutti ma proprio tutti atleti abili e diversamente abili oppure semplici appassionati di sport che hanno voluto trascorrere una mattinata in assoluta spensieratezza attraverso esibizioni e dimostrazioni di svariate discipline olimpiche sportive dal basket alla rugby alla danza sportiva passando per il tiro con l'arco l'atletica leggera la pesistica vela canoa badminton bocce showdown motonautica e tiro a volo sport in comune è stato arricchito dalla partecipazione degli alunni disabili e dei loro compagni unitamente i docenti di educazione fisica e di sostegno ai ragazzi è stata data la possibilità di cimentarsi nelle discipline sportive insieme agli atleti paralimpici vivendo così una giornata all'insegna dello sport integrato aggiungo alle due parole che oggi è una giornata di sport di tutti ma soprattutto per tutti abbiamo circa 25 scuole tantissime discipline sportive tantissime federazioni che ci hanno appoggiato per rendere una giornata veramente unica abbiamo 25 scuole circa 1500 bambini tra ragazzi normodotati disabilità intellettiva relazionale disabilità sensoriale abbiamo attività per non vedenti abbiamo un mix di tutto per stare tutti quanti insieme e far capire che tutti siamo diversi e non esistono barriere e poi anche quella è la funzione un po' la funzione del comitato paralimpico nella sua accezione più completa sì il comitato paralimpico diciamo l'obiettivo è quello di dare il diritto allo sport come dicevo prima di tutti per tutti e promuovere le attività sportive come lo stiamo facendo oggi e come dicevamo la giornata si celebra con diversi appuntamenti intanto ad Acireale un parco giochi è stato annunciato proprio oggi e sarà adatto anche per ragazzi disabili sarà realizzato all'interno della villa Belvedere di Acireale nella parte agibile e la consigliera Sabrina Rana ha aderito donando alla comunità una delle installazioni ludiche sentiamo Salvo Cutuli un parco inclusivo nella parte agibile della villa Belvedere di Acireale l'assessore servizi sociali Palmina Fraschilla nella giornata mondiale dedicata alle persone con disabilità si è recata nel giardino comunale per seguire lo stato dell'arte del lavoro di sistemazione dell'area giochi attrezzata con base in erba sintetica e un tappeto antiurto per il progetto sono stati stanziati circa 15.000 euro una parte della somma verrà estrapolata per realizzare una scivola e consentire alle persone con mobilità ridotta di accedere negli adiecenti spazi coperti previsto anche l'acquisto e l'installazione di un sollevatore meccanico di carrozzine per agevolare l'accesso nell'arena Eden sede di rappresentazione pubblico e soprattutto nel periodo estivo una ventina le gioste previste nel nascente parco inclusivo anche la consigliere di minoranza Sabrina Rana ha voluto prendere parte dell'iniziativa donando un'altalena dotata di speciali pinze di aggancio alle carrozzine penso che su alcuni temi non ci siano e non ci devono essere colori politici inoltre era già un progetto iniziato nel 2017 con l'installazione dei giochi nella Bambinopoli di via Sutera successivamente abbiamo pensato insieme all'assessore Fraschilla di poter collocare l'altalena per diversamente abili all'interno di questo parco giochi inclusivo in modo da poter offrire a tutti pari opportunità Solidarietà Bipartisan con l'obiettivo di contribuire effettivamente al progetto globale riservato ai disabili istituito dall'ONU nel 1982 è un momento importante anche perché è qualcosa a cui io tenevo particolarmente è un lavoro iniziato da circa due anni e finalmente diciamo che abbiamo posto le basi affinché il parco giochi inclusivo venisse realizzato giochi per ragazzi diversamente abili giochi per tutti non mi piace definirli giochi per ragazzi diversamente abili questo è un parco giochi in cui tutti i bambini si possono sperimentare soprattutto hanno la possibilità del confronto e hanno la possibilità di migliorare quelle che sono le relazioni interpersonali al di là del fatto che si possa trattare di bambini con disabilità o normodotati e adesso parliamo di Natale e solidarietà da 22 anni la tenda di San Camillo di Acireale raccoglie fondi per i bisognosi anche mediante la realizzazione di un presepe realizzato con materiali riciclabili da 22 anni la mensa di San Camillo in via Genuardia di Acireale allestisce il presepe all'interno della settecentesca chiesa e promuove l'offertorio libero riservato ai bisognosi tutta la comunità camigliana partecipa all'evento con l'aiuto di decine di volontari che da un mese circa si sono prodigati nell'allestimento e rievocazione della natività impiegando materiale di riciclo un centinaio di pastori migliaia di luci colorate e paesaggi in miniatura che ricostruiscono l'evento sacro quegli lavoratori effettivi eravamo in due io e Rossella Trovato che mi ha collaborato ma poi il Natale diciamo che è la festa della famiglia quindi tutta la grande famiglia camigliana ha lavorato alla realizzazione compresi i volontari gli altri confratelli gli altri postulanti quindi ci siamo tutti raccolti intorno a questa realizzazione la missione dei fratelli camigliani e deciriale e non solo rappresenta un punto di riferimento certo verso gli ultimi e più bisognosi un infaticabile costante quotidiana missione di accoglienza di indigenti a prescindere dal colore della pelle e dalle professioni di fede seguendo fedelmente gli insegnamenti di San Camillo fondatore della comunità che ha sede in tutto il mondo questa iniziativa si deve al professore Nuccio Trovato che 22 anni fa iniziò l'esperienza del presepe a San Camillo e questa coincidenza del presepe era proprio con l'apertura del centro di accoglienza che è stato aperto sempre nel 96 e l'obiettivo era far conoscere questa realtà nascente attraverso i visitatori al presepe e anche il sostentamento di quest'opera perché ognuno può esprimere la sua solidarietà nei confronti del centro di accoglienza lasciando una libera e anonima offerta il presepe di San Camillo in soccorso dei poveri con donazioni spontanee è anonime l'attività dei camigliani 10 reale è un indicatore reale da cui emergono sempre più percentuali allarmanti di povertà anche tra gli italiani che fanno ricorso a pacco spesa con bene di prima necessità evidenzia il vescovo della diocesi Antonino Raspanti perché c'è la possibilità così di contribuire come si fa nella nostra città ormai di portare cose materiali per la mensa perché ogni giorno circola una cinquantina di persone con l'aiuto di tutti gli accesi oltre che dell'8 per mila della Caritas riusciamo a dare il cibo per tutti è una generosità è una possibilità se si chiudessero queste possibilità verrebbe meno anche l'occasione per ciascuno di noi di essere più generosi invece si devono moltiplicare secondo me così come fanno anche altre istituzioni si devono moltiplicare le possibilità perché quando ci sono solitamente la gente è generosa e quindi io desidero ringraziare non solo i padri e le suole di San Camillo ma anche tutti gli accesi che davvero si sono mostrati in questi anni generosi portando avanti questa mensa che poi è fatta con l'aiuto di tutti tra l'altro è anche un indicatore dei livelli di povertà ci sono molti italiani che soffruiscono di questo servizio sempre più italiani la maggior parte infatti non sono stranieri o residenti o che vengono da fuori no no la maggior parte sono nostri è vero che e peraltro aggiungo che molti si vergognano a venire e allora c'è soprattutto altre organizzazioni come la San Vincenzo che invece vanno a casa quindi talvolta le certe povertà vanno scoperte scovate uso dire questa parola direttamente nelle loro case perché si può capire alcuni possono anche provare un pizzico di vergogna insomma nel farsi presente pubblicamente e vi dico che sono centinaia di famiglie centinaia di famiglie che sono al di sotto della soglia di povertà che non hanno la possibilità o del cibo o dalla corrente elettrica lasciamo stare i telefonini e altro parliamo delle cose di base e a proposito del Natale guardiamo questi attimi di festa che in realtà hanno dato il via al Natale 2018 a Riposto sabato in Piazza San Pietro nella piazza principale nella presenza del sindaco Enzo Caragliano della giunta si svolta la tradizionale accensione delle luminarie artistiche per il Natale a seguire il brindisi augurale e lo spettacolo pirotecnico e musicale con il gruppo Babbo Natale Band è tutto per questa edizione ci fermiamo qui grazie dell'attenzione vi ricordo che potete seguirci anche attraverso il sito internet re tv punto it e la pagina facebook il prossimo appuntamento con informazione in diretta alle 19.45 adesso invece c'è il meteo grazie a tutti buon poveriggio le previsioni in meteo della giornata di martedì 4 dicembre 2018 cielo prevalentemente soleggiato su tutta la Sicilia i mari saranno calmi le temperature nell'isola oscilleranno dai 21 gradi ai 6 a Catania 21 gradi la massima 13 la minima torta la sicilia 20 gradi lainek nazione o o qui Autore dei sorrisi